Tentativo di furto questa notte in un immobile situato in via Carmine Turco a Battipaglia. A sorprendere i malintenzionati il proprietario di uno degli uffici rientrato in sede casualmente che ha notato le luci accese e gli allarmi in azione. Ad intervenire sul posto la polizia di stato che ha effettuato i rilievi del caso ed avviato le indagini. Un episodio che evidenzia ancora una volta la centralità della questione sicurezza sul territorio di Battipaglia. Grazie a tutti.